Ho deciso di iniziare questa trilogia delle grotte proprio perché le grotte sprigionano magia e quindi il connubio magia e scrittura è diventato importante. È ambientata nelle grotte di Frasassi la trilogia Mike a firma dell'autrice fantasy Claudia Casadei. In stesura dal 2018 al 2022 la trilogia edita da Edizioni Helicon ha per protagonisti un gruppo di ragazzi che oltrepassando un portale rappresentato dall'albero della vita attraverseranno diversi luoghi della regione Marche. Come nasce l'idea di scrivere un libro fantasy ma ambientato nella regione Marche e nelle grotte di Frasassi? La cosa deriva dalle mie competenze passate. Io provengo in primis dal mondo della scuola quindi mi sono interfacciata sempre con tantissimi ragazzi e quindi il mio fantasy si rivolge a un pubblico tra virgolette giovane anche se il fantasy in sé è uno 0,90. E poi dalle mie competenze legate ai viaggi perché sono un agente di viaggio e quindi faccio incoming e amo in modo quasi viscerale la mia regione. Disponibile sulle principali piattaforme di e-commerce e nelle librerie Mike ha guadagnato presso la ribalta di tantissimi concorsi nazionali e internazionali classificandosi al primo posto al prestigioso concorso internazionale Maria di Corato 2023 nella sezione narrativa per ragazzi. Per scrivere un fantasy ci vogliono tantissime pagine e quindi l'ho dovuto per forza dividere in tre realtà diverse. Si parte dal nickname che è Mike che è il protagonista di questa vicenda che è come ripeto un nickname Massimiliano Icardi ed è un ragazzo, un adolescente dei nostri giorni che poi parte per questa avventura incredibile che si articola e su questo mondo ma anche su mondi alternativi. Non è un fantasy puro, è uno sci-fi, quindi un misto tra fantasy e fantascienza. In calendario anche degli eventi legati a questa trilogia. Sì, stiamo cercando di creare una presentazione, un format diverso, quindi una presentazione che prevede anche un momento di spettacolo. Lo faccio in collaborazione anche con Luca Violini e sarà un evento all'Accademia di Babele il 28 gennaio prossimo, quindi vi aspetto. Grazie.